Un saluto dall'Etigi della mobilità. Da domani il lockdown di Natale con gli spostamenti ridotti al minimo. Chi dovrà uscire per motivi di salute, lavoro o altra necessità o per portare un saluto a un parente troverà comunque attivo il servizio di trasporto pubblico. Più in dettaglio domani le tre linee della metropolitana saranno in funzione dalle 5.30 alle 21 quando partiranno le ultime corse dai capolinea. Anche per bus e tram il limite orario sarà alle 21. A Natale metro bus e tram funzioneranno dalle 8.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 21. A Santo Stefano normale orario festivo. Servizio sempre regolare il 24, 25 e 26 dicembre per i bus notturni. Grazie.